Il sindaco Federico Pizzarotti ieri sera ha visitato il centro di accoglienza profughi di Baganzola partecipando ad una cena con i 36 migranti ospitati nella struttura e con gli operatori che si occupano della loro assistenza. Il primo cittadino ai nostri microfoni stamane si è detto confortato dal clima di tranquillità riscontrato criticando anche le polemiche anti-accoglienza sollevatesi da tempo e anche di recente in città. Ieri sera lei ha cenato con i profughi a Baganzola, che tipo di incontro è stato? Un bel incontro per vedere queste persone, per conoscerle, per sentire un po' delle loro storie soprattutto per star vicino a tutti i volontari della Croce Rossa e della pubblica e a tutti quelli che si dedicano che fanno un lavoro fantastico oggettivamente perché c'era un bellissimo clima e loro sono i primi che riescono a realizzare questo clima per vedere che è una struttura assolutamente adeguata e non è come hanno voluto farla apparire chissà cosa possiamo immaginare come una colonia, sono stanze che hanno 4-5 letti con dei bagni in comune quindi struttura adeguata, decorosa, quanto necessaria e spartana per questo tipo di attività quindi volevamo rendercene conto perché l'importante dell'accoglienza era anche dare un messaggio di vicinanza della cittadinanza a tutti. C'è un bel clima fuori magari un po' meno tra i cittadini? Ma tra alcuni cittadini, tra alcuni cittadini invece ho sentito tanti altri cittadini vergognarsi di questo tipo di reazione rispetto a una situazione d'accoglienza che è gestibile quindi non è né troppo né troppo poco è qualcosa che penso che sia corretto e che la città sta rispondendo molto bene. E a proposito di polemiche, tensione ieri sera si è registrata in pieno centro per il sit-in anti-immigrati organizzato da un gruppo di cittadini per dire no alla presenza di strutture di accoglienza profughi nel cuore di Parma massiccia la presenza di forze dell'ordine per evitare il contatto con gruppi di antagonisti e antifascisti.